Scusatemi se la videocamera si è interrotta da sola, non so perché, perché forse non avevo più tanta memoria, allora devo fare presto, ecco pure questo si spezza, dopo questo, pure questo con i glitter, comunque questo l'ho fatto col colorante rosa, questo con i glitter fucsia e bianchi, bello anche questo, dopo ne ho altri due, uno è particolarissimo, sapete perché? No, non lo sapete, questo marrone, ma sapete perché è marrone? Perché ci ha messo un cucchiaio di Nutella, ho voluto fare questo esperimento che c'era su Yolanda Sweets, che praticamente c'era sul libro, Allora ho provato a farlo e mi è venuto lo stesso lo slime, perché guardate, e si allunga anche, cioè è stranissimo, poi profuma un sacco, profuma un sacco, troppo bello, ok. No, non l'ho leccato, non preoccupatevi, poi si allarga tanto, eh.